la cazzone sentisce wow già stavo a secondo livello bella va il ciendone ma lui ah ma tu hai stringto eh no ha giocato apposta ha giocato apposta oi scherzi ha fatto insieme pure ai scherzi che ho fatto questo video guarda non so prima no io ci posso trovo che fatti finisce trovo che fatti finisce quando puoi arrivare la prima non c'è finito non c'è finito non c'è finito ma faccio il mio cazzo è impossibile ma chiaro chiaro ce la puo fa è impossibile però ti porta il livello da c***o ce la puo fa ce la puo fa ce la puo fa ce la puo fa la canzone se la dice pure tutto con te la dice tutto con te è difficile eh questo caffè delire ma non c***o 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 mi mette' c***o ma non c***o è rimbalzato contro l'UNEVU non basta no aspetta ma qui è l'ultimo livello potenza? è l'ultimo livello è l'ultimo livello se non lo faccio a fare un video facciate un po' facciate un po' facciate un po' facciate un po' non lo faccio a fare un po' è l'ultimo livello non lo faccio non lo faccio lo faccio a fare un po' che stai facendo? ah è stato la vipena non mi stai non mi stai non mi stai questo è buono vero bea